ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video io sono a casa malato da una settimana perché ho avuto febbre ho avuto mal di gola mal di orecchie e ce l'ho tuttora infatti se sentite la mia voce un po bassa è perché sono malato e niente lasciamo queste cose a parte oggi ho acceso la telecamera perché ho frugato un attimo in garage e ho trovato questa scatoletta e queste sono delle scarpe come potete vedere sono delle vans ok e niente l'avevo comprato una volta ma col numero sbagliato e quindi ho deciso di regalarvele a qualcuno di voi che ne ha bisogno ve le regalo il numero adesso vi dico anche il numero se lo trovo le scarpe sono queste wow bellissime lo stile così militare non so se la fotocamera focalizza mette a fuoco no queste sono le scarpe e niente fatemi sapere se vi piacciono e vi dico anche il numero il numero è un 9 è un 9 americano misure scarpe americane allora una misura 9 americana equivale a un 42 ah sì infatti io ho il 42 e mezzo e queste non mi stavano quindi queste sono un 42 e se volete potete aggiudicarvele quindi basta che mi iscriviate o scrivate sotto nei commenti scrivete sotto nei commenti io ve le regalo proprio venite a prenderle sono completamente nuove bellissime però sono belle belle questo era facciamo un po di beneficienza oggi e niente il video finisce qui e noi ci vediamo in un prossimo video ciao